Ciao, sono Paolo Maggi, vivo a Roma, ho partecipato all'Italia Film Fetice con Escluso il cane. Io sono Iuda Stanesco e ho collaborato con Paolo alla realizzazione del corto, sia in veste di sceneggiatrice che come aiuto regista sul set. È un'idea che è nata facendo una riflessione sul significato di umanità e su che cosa significa l'esclusione. E questo ci ha portato a immaginare questa prospettiva un po' diversa dal solito. Questo corto l'abbiamo realizzato con la collaborazione di Corte Tripoli Cinematografica e abbiamo al momento diversi progetti per il futuro. Stiamo scrivendo un lungometraggio, alcuni cortometraggi da realizzare e stiamo lavorando al montaggio di un documentario sulla street art che abbiamo girato. Abbiamo detto tutto, salutiamo. Bene, saluto a tutti e azie. Ciao. Ci vediamo al 16 corto. Grazie.